Tu son nato a parlare d'amor A Borgobaro è festa, è festa nei caruggi, nelle piazze, è festa per i bimbi, per i grandi, per i piccoli, per tutte le famiglie c'è un presepe meraviglioso che poi si illuminerà nella notte nel torrente tanti angoli da scoprire e anche degli angoli di sapore, Rossana, dell'associazione Ocastello L'associazione Ocastello vi dà da mangiare, degli assaggi, qua abbiamo la piscia all'Andrea, la fatta Enrico siamo nella cantina di Enrico, abbiamo due punti principali di ristoro abbiamo voluto fare due punti di ristoro proprio per dare anche un po' di visibilità al paese E siamo col presidente dell'associazione Ocastello qui a Borgobaro innanzitutto per ringraziarvi di questa ospitalità e di quello che avete realizzato in questa giornata domenicale davvero per tutte le famiglie abbiamo visto un paese in festa e anche una partecipazione degli abitanti perché tutte le vie erano addobbate, presepi, nascosti un po' dappertutto Esatto, sì, innanzitutto ringrazio Tela Imperia per averci, diciamo, dato l'opportunità di far conoscere anche ad altre persone che non sono potute venire oggi che cosa è successo a Borgobaro in questa giornata Io sono particolarmente felice per la riuscita della manifestazione per due motivi essenziali Il primo perché abbiamo coinvolto questa volta molto bene la popolazione ad uscire dalle proprie case di riversarsi nelle vie, di abbellire con presepi e con altre cose belle il nostro centro storico E in secondo luogo sono anche felice che molte persone siano venute dalla costa della riviera e dai paesi vicini a vedere che cosa avevamo in qualche maniera combinato Sono anche felice che il tempo ci ha graziato e ci ha dato una giornata abbastanza bella Voglio sottolineare un fatto che sono veramente contento di concludere questa giornata davanti a questo politico che è un quadro del 500 che è stato dipinto da Raffaello De Rossi che viene conosciuto anche dagli amanti dell'arte pittorica con il nome del Pancalino Attualmente come vedete questo quadro, questa tela è in restauro presso un competente e valido restauratore finanziato con un contributo dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino e al termine di questo quadro verrà esposto presso la Veneria Reale di Torino insieme ad altre opere che l'Istituto Bancario ha finanziato e con questo augurio, con l'augurio che al più presto possibile questa bella rappresentazione dell'incontro di Gesù con la Veronica possa ritornare accanto all'altare, altare maggiore per la venerazione dei fedeli e per l'ammirazione delle persone competenti a seguito del restauro che si spera sia effettuato entro il mese di febbraio del prossimo anno ringrazio ancora una volta Tene Imperia per la partecipazione e speriamo di ritrovarci il prossimo anno come quest'anno Alleluia, Alleluia